Allora, questa è la posizione di base del tesuji di oggi. Il problema è bianco e stelle per cercare di dividere in due nero e nero riesce a catturare le due pietre di bianco e quindi si tiene collegato. Per inciso, questa qui è una posizione vera che può capitare in partita perché salta fuori da un'invasione nell'angolo, che vi faccio vedere. Questa è la posizione di partenza. Bianco e base, nero blocco, bianco, bianco. Bianco difende questa perché se nero la cattura uccide l'angolo è stato tutto modificato e adesso nero lo gioca qua. Allora, se la scala va bene per nero, questa è catturata. Ma se la scala è buona per bianco, bianco può pensare, sbagliandosi, di tirarla fuori in questo modo. e c'è una cattura, un modo di catturare, che è la scala è buona per bianco. Anch'io vorrei gioca a catturare. Ok, tutti avremmo viacchato quella. Ottimo. Sono contento. Bianco però dice, ah ma io questa me l'aspettavo. Ma allora, dottari qui, e nero collega. dottari qui, e adesso riuscirò a scappare. Questo è il piano di bianco. Ma invece no. Non funziona bene. Beh. Intanto catturano la bianca da fare. Però lui scappa. Ok. Allora, se bianco gioca questa, anche mettiamo questa. Io giocano in clove. Ma è bianco? No, non si sponde, no, si bianco si sponde, no, si bianco si sponde, no, non la stessa. Esatto. Perché dopo questa non lo si prende. No, secondo me è così. Mangia, poi gli do attari, e lui deve chiudersi, e adesso appunto è l'altro. Attari. Sì. Siamo convinti? Sì. Va bene. Direi che non ci sono... Sì, è giusto. Che è perfetto. Beh, diciamo che bianco scappa con questa. Nero gioca e cattura queste due. Qui facendo salva queste, quasi collega, anche se l'aspetto più bianco riuscirà a girarci sotto. Non sembra, ma è praticamente identica all'altra. Ah, sì. Sì, è vero. Esatto. Partito da quel saccalficcio di quella pietra. Sì. Come in altre posizioni. Sacrifici uno per fatto l'altro. Sì, sì. E vabbè, e qui a questo punto bianco si rende quanto che ha sbagliato, ha pagato tantissimi punti per l'errore, ma se non altro collega le pietre sotto. Per quello che dicevo, che probabilmente riesce a dire a accettare. Però è un vero disastro.